Sono arrivati al pronto soccorso del Miulli ad Acquaviva delle Fonti con vomito e mal di pancia due mamme, poco meno che quarantenni, e loro cinque figli, tutti albanesi da tempo residenti in Puglia. I bambini di età fra i 5 e i 15 anni sono arrivati intorno alle 10 e mezzo al pronto soccorso con mal di pancia. Erano state portate anche in pronto soccorso dei residui di cibo che sono state sottoposte ad esame micologico. E' stato chiesto anche un consulto con il centro antivialeni. I funghi erano stati raccolti dal marito di una delle donne in un campo vicino Acquaviva. L'uomo li ha mangiati ma non ha avuto conseguenze, mentre i figli e le due donne sono rimasti intossicati. Per fortuna però le loro condizioni non destano preoccupazione. I bambini e le due mamme stanno bene, vengono tenuti prudenzialmente in ricovero per un paio di giorni. Insomma quindi sicuramente domenica dovrebbero già essere a casa. La raccomandazione resta sempre quella di far controllare i funghi alla ASL.